Ben ritrovati con una nuova puntata di Oroscopo Sicilia. Scopriamo insieme il quadrastrale per la giornata di oggi. Ariete Oggi potresti sentirti un po' sopraffatto dalle responsabilità. Cerca di gestire il tuo tempo in modo efficace per evitare lo stress. Incontri inaspettati potrebbero portarti in nuove opportunità. Quindi mantieni la mente aperta, non trascurare il dialogo con i colleghi. Una buona comunicazione è fondamentale. La tua creatività potrebbe aiutarti a trovare soluzioni innovative. Toro Oggi potresti affrontare qualche imprevisto sul lavoro, ma non lasciare che ti scoraggi. La tua determinazione e capacità di problem solving saranno le tue migliori alleate. Concentrati sulle soluzioni piuttosto che sui problemi. Incontri con colleghi possono liberarsi fruttuosi. Non esitare a condividere le tue idee. In serata o una passeggiata all'aria aperta ti aiuterà a schiarirti le idee. Gemelli Le interazioni sociali si riveleranno molto stimolanti. Cancro La tua creatività è al massimo e questo è il giorno perfetto per esplorare nuove idee. Potresti avere l'ispirazione di iniziare un progetto artistico o di scrittura. Dedica tempo a te stesso e alle tue passioni. In ambito lavorativo potresti ricevere complimenti per un compito ben svolto. Ricorda di non trascurare la tua vita sociale. Una serata con amici potrebbe fare la differenza. Leone Oggi potresti sentirti sopraffatto da alcune preoccupazioni. È essenziale trovare un equilibrio tra lavoro e vita personale. Non esitare a chiedere aiuto. Collaborare con gli altri può alleviare la vita. La comunicazione sarà chiave. Esprimi i tuoi pensieri con pierezza. Potresti ricevere notizie inaspettate riguardanti un progetto in corso. Detagliati un momento per meditare o fare una passeggiata. Vergine Oggi la tua attenzione sarà rivolta alla salute e al benessere. Potresti sentire il bisogno di dedicarti a un'attività fisica o a una nuova routine alimentare. Questo è un ottimo giorno per iniziare a fare scelte più sane. In ambito lavorativo potresti affrontare qualche sfida, ma non lasciarti intimidire. La tua determinazione ti porterà lontano. Bilancia La giornata di oggi porta un'energia creativa. Potresti sentirti spinta a esprimerti attraverso l'arte o la scrittura. Dedica tempo a progetti che ti appassionano. Sarà un modo per liberare la mente. Se hai idee innovative, condividele con gli altri. Potresti sorprenderti del supporto che riceverai. Attenzione però a non troscurare le responsabilità quotidiane. Trova un equilibrio tra divertimento e doveri. Scorpione Le sfide sul lavoro potrebbero manifestarsi oggi, ma affrontale con calma e determinazione. La tua resilienza sarà un punto di forza. Potresti ricevere feedback inaspettati, ma non lasciarti demoralizzare. Ricorda che ogni critica è un'opportunità di crescita. La comunicazione con i colleghi sarà fondamentale. Dedica tempo a chiarire eventuali malintesi. Sagittario Una giornata di introspezione e crescita personale. Potresti sentirti ispirato a leggere o a seguire un corso. Le tue idee brillanti possono attirare l'attenzione di qualcuno che condivide i tuoi interessi. Le relazioni personali saranno al centro della tua attenzione, quindi dedica tempo alla tua famiglia o ai tuoi cari. Non dimenticare di ascoltare, perché le parole degli altri potrebbero offrirti nuove prospettive. Capricorno Oggi potresti affrontare qualche imprevisto, soprattutto in ambito lavorativo. E' importante mantenere la calma e non farti sopraffare dallo stress. Dedica un po' di tempo alla pianificazione. Avere un piano B ti darà sicurezza. In famiglia potrebbero emergere tensioni. Cerca di ascoltare le preoccupazioni degli altri. Acquario Oggi è un giorno ideale per concentrarti sulle tue relazioni. Potresti risolvere incomprensioni con persone a te vicine, grazie alla tua apertura mentale. In ambito lavorativo, la collaborazione sarà la chiave per il successo. Non esitare a chiedere aiuto o a offrire supporto. I progetti che richiedono lavoro di squadra avranno buone possibilità di prosperare. Sfrutta al meglio questo clima di cooperazione. Pesci Oggi potresti sentirti particolarmente creativo e ispirato. E' il momento ideale per esprimere le tue idee, attraverso l'arte, la musica o la scrittura. Non trattenerti, lascia che la tua immaginazione voli. Inoltre, potrebbero esserci opportunità di collaborazione con qualcuno che ammiri. In amore, una sorpresa romantica potrebbe rendere la giornata speciale. Si conclude qui questa puntata di Oro a Scopo Sicilia. Io vi ringrazio e vi aspetto alla prossima.